I seminari multilaterali o bilaterali e-twinning hanno un duplice obiettivo, formare i docenti sugli strumenti offerti dalla piattaforma e-twinning e farli incontrare per creare e attivare insieme dei progetti e-twinning. Ogni seminario coinvolge un determinato gruppo di paesi e docenti di livello scolastico diverso. I progetti nati vengono poi portati avanti a distanza ma è una grandissima opportunità per gli insegnanti poterli avviare insieme in presenza. Come unità e-twinning Italia ogni anno organizziamo due o tre seminari multilaterali o bilaterali e partecipiamo ad altrettanti seminari che vengono organizzati invece dai nostri colleghi delle unità nazionali degli altri paesi e-twinning. In entrambe i casi accompagniamo gli insegnanti in questo percorso di formazione e creazione di nuovi progetti.